torno a trovarci con il suo ultimo libro lorenzo galliani insegnante di religione giornalista per ancora edizioni ha scritto hai un momento dio liga bue tra rock e cielo e canzoni in classe dal rap all'india la ricerca di un senso e poi ha collaborato anche con don giovanni berti don gioba per tre libri su religione e vignette diamo il benvenuto a lorenzo galliani in collegamento con noi questa mattina buongiorno lorenzo benvenuto buongiorno grazie dell'invito allora partiamo a proprio parliamo del tuo ultimo libro il caso non esiste kung fu panda tra fede e ravioli ancora edizioni allora domanda d'obbligo qui con me in studio c'è leonardo che appunto ha visto kung fu l'ha visto anche suo figlio però per chi non lo conoscesse come la sottoscritta in maniera sintetica puoi raccontarci di questo fenomeno cinematografico che è che è stato kung fu panda partiamo dal 2008 da kung fu panda 1 il protagonista è bandato piuttosto rilassato goloso mangione e appassionato di kung fu e viene inspiegabilmente scelto come guerriero dragone sia come difensore del villaggio davanti ai nemici che che arriveranno e si gioca anzitutto appunto su questo contrasto tra il kung fu che richiede abilità velocità intelligenza forza e appunto un personaggio che sembra assolutamente inadatto ma che invece non lo è affatto lo sa bene maestro ruguay la tartaruga saggia del villaggio che appunto sceglie proprio lui ea motivi ecco per per sceglierlo poi con gli anni ci sono stati due e tre e quest'anno è uscito il quattro alla quarta puntata della saga arricchita anche negli anni da le serie tv è davvero un fenomeno cinematografico ma il tuo libro lorenzo è un libro che diciamo diciamo vuole cercare tra virgolette un ideale un po più alto perché fa dei riferimenti costanti e come dire anche in un certo senso pressanti potremmo dire alla ricerca di dio nel quotidiano si rientra nel suo piccolo in quel pilone io non sono un teologo però che si chiama teologia pop sia la ricerca del senso religioso nei prodotti della cultura popolare ora evidentemente un cupanda non è stato pensato per parlare di religione eppure di collegamenti ce ne sono ce ne sono tantissimi più o meno i volontari citando non il libro ma il caso non esiste e se noi torniamo appunto a kung fu panda 1 ossia fatto che può assolutamente inadatto alla missione che che viene viene a lui affidata tante storie dell'antico testamento giocano su questo contrasto per cui abbiamo due anziani con tutto il rispetto per abramo e sar ai quali viene affidato il compito di diventare padre di un popolo abbiamo una persona che ha difficoltà a parlare mosè che deve parlare con il faraone e abbiamo l'ottavo di otto fratelli davide in una società nella quale già essere secondi vuol dire valere un po meno ecco lui è l'ottavo che diventerà re e quindi il gioco del contratto va avanti se non c'è anche molto altro cioè l'inizio della storia di po che viene svelato in kung fu panda 2 ricalca esattamente anche qui più o meno involontariamente l'inizio della storia di mosè allora lorenzo per chi è stato pensato questo libro beh devo dire egoisticamente inizialmente è stato pensato per me perché riprende la tesi di scienze religiose con il quale con la quale ho concluso il mio percorso alcuni anni fa ma ovviamente siamo in tanti sulla testa d'arche quindi per insegnanti educatori che hanno a che fare con i ragazzi e certamente parlare di temi legati all'ervigione partendo da un prodotto della cultura popolare si può partire da un film da una canzone da una serie tv in questo caso appunto da kung fu panda può essere un buon appiglio tanto più che di temi e di temi ce ne sono dal dal tema appunto della fede della fiducia in kung fu panda 1 al tema della memoria dell'identità in kung fu panda 2 in kung fu panda 3 c'è una scena di preghiera dei panda e anche bellissimo e molto profondo il tema del sacrificio e anche nei corti insomma qualche qualche spunto per per parlare insomma di di temi non non banali ce ne sono adesso tra poco andrà a scuola e in una seconda parleremo delle virtù utilizzando come per testo il cortometraggio sulle virtù dei cinque cicloni sulle loro storie che i cinque cicloni sono cinque guerrieri cinque maestri di di kung fu che accompagnano poi nelle sue avventure ecco hanno avuto un'infanzia non semplicissima quindi sono arrivati dove dove sono arrivati però grazie all'impegno grazie al sacrificio e soprattutto grazie a qualcuno che ha creduto il loro anche nel momento in cui nessuno avrebbe avrebbe puntato un centesimo ecco magari i nostri amici telespettatori si stanno chiedendo ma perché non grazie perché non state facendo vedere delle immagini di questo cartone del quale state parlando a purtroppo perché insomma come dire ci sono diritti cinematografici che vanno oltre le nostre tasche insomma quindi a parte questo ci siamo appunto cercheremo ecco di immaginare o magari finita terminata questa intervista i nostri amici digiteranno su google kung fu panno forse andranno a vederlo al cinema si tra l'altro è molto interessante come diceva anche lorenzo questo filone no della teologia pop che in qualche maniera vuole anche avvicinare attraverso il linguaggio nuovo dell'arte cinematografica comunque anche della musica o dei reel su tiktok ma qui poi apriremo ovviamente anche lorenzo penso un filone immenso perché ovviamente anche qui ci sono i pro e i contro e allora quello che vorrei chiederti perché secondo te è utile parlare attraverso questi strumenti attraverso anche queste storie che sono anche completamente diverse rispetto a quella cui sono abituati i nostri ragazzi in parrocchia o comunque a scuola durante l'ora di religione ma mi viene da dire perché la chiesa lo ha sempre fatto e san paolo va in grecia e parla del dio ignoto dicendo no no ve lo presento io il dio ignoto i monaci siriani vanno in cina e scrivono dei testi in un cinese un po' zoppicante però ci provano a parlare con il linguaggio delle persone dalle quali si vogliono per ascoltare ecco la differenza probabilmente è che siamo in un periodo di intensa secolarizzazione di intenso allontanamento ecco da non ho dal senso religioso però probabilmente dalla chiesa almeno in alcune aree del pianeta compresa compresa questa e non c'è da fare nulla di diverso rispetto a quello che si è sempre fatto nel prodotti della cultura popolare c'è molto materiale ci vuole anche semplicemente molta onestà cioè ci sono delle delle canzoni delle serie che vogliono parlare di religione e faccio un esempio giocando in casa hai un momento dio di digavue ci sono altri casi come kufu panda dove certo non è fatto per parlare di religione però si parla di vita di amore di relazione e di sacrificio e perché lasciarle da parte insomma forse ogni tanto bisognerebbe scendere dal piedistallo e rendersi conto che l'aria che respirano i nostri giovani non sono non è così del tutto inquinata poi un discorso a parte riguarda l'utilizzo di nuovi linguaggi e qui insomma bisogna rendersi conto un po se siamo capaci o meno di utilizzarlo perché il rischio di fare le figuracce è enorme c'è da dire invece sui primi punti sul sull'incontro con il prodotti della cultura popolare io gioco in casa da bolognese perché qui da noi c'è il professore brunetto salverani che è un precursore della teologia popola a partire dai libri su sui simpson oltre che su de andrea quindi è facile insomma mettersi in scia diciamo così se modo di vederlo salutacelo caramente il professor salvarani che è stato ospite diverse volte qui da noi quindi una garanzia una garanzia assolutamente allora lorenzo in conclusione perché tra un po dobbiamo lasciarti andare che ti aspettano a scuola però riprendo una domanda con la quale tu concludi il libro che questa la chiesa crede nei giovani te la rilancio non lo so io vedo un pezzettino di chiesa io sono un pezzettino di chiesa e certamente sono un privilegiato nella parrocchia che frequento c'è un gruppo molto bello di di giovani famiglie ecco l'impressione però sui giovani sui ragazzi è che si faccia molto a parole e poco nei fatti cioè è bello dire che i giovani sono futuro ma non è vero i giovani non sono futuro pagliamocelo dalla testa i giovani sono il presente i giovani sono la bellezza della chiesa e bisogna che al di là di attestazioni di stima o di insomma di di valorizzazione che resta sulla carta ecco a me piacerebbe vedere non solo i giovani che ascoltano noi vecchietti perché io per il mio studente sono un dinosauro però anche capire che abbiamo tanto da imparare tanto da crescere nella relazione con loro in senso pratico davvero con cose da fare con cose da dirci che ne hanno tanti altrimenti se le mettiamo nel refrigeratore loro non ci castano e vanno sicuramente a cercare altro perché hanno bisogno di farsi vedere hanno bisogno di dire e noi abbiamo bisogno di loro e sono sempre meno certo ecco però grazie per diciamo l'ottimismo con il quale ma anche il realismo con il quale hai hai aggiunto hai condito appunto queste tue riflessioni intanto ricordiamo il libro di lorenzo galliani edito da ancora il caso non esiste kung fu panda tra fede e ravioni ma possiamo ritrovare anche altri libri sempre per ancora edizioni di lorenzo ecco anche molto belli quelli di cui abbiamo parlato tempo fa scritti con don giobba don giovanni berti nella vignetta del signore sia le vignette del signore sono infinite poi anche don giobba è una garanzia allora decisamente grazie grazie lorenzo per essere stato con noi torna a trovarci quando vuoi anche in collegamento ti aspettiamo per il tuo prossimo libro grazie grazie a voi ciao grazie grazie mille a lorenzo galliani noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme